Musica Ben trovati con la pagina sportiva, l'idea è fascinosa ma il DG dell'Arezzo Paolo Giovannini sembra procedere in una direzione ben precisa per completare una rosa che di giorno in giorno si sta rivelando sempre più interessante dopo nell'ordine gli arrivi di Risaliti, Castiglia, Lorenzini, Bruni, Polvani e Babucar nell'agenda del direttore generale ci sono due nomi, due pezzi da 90 per la categoria l'attaccante Scappini e il centrocampista Settembrini che qui vediamo nella foto non è certo una pista facile ma Giovannini ci sta provando Scappini è un attaccante di provate virtù, ha 34 anni e non gli difetta certo l'esperienza la sua migliore stagione l'ha avuta a Pontedera 5 anni fa con 24 gol Andrea Settembrini è retinissimo, non ha certo bisogno di presentazioni, figlio d'arte non ha mai giocato nella squadra della sua città, classe 91 quest'anno ha trovato poco spazio a Padova le sue stagioni migliori a Cittadella, Feralpi e Dentella Samake Bubacar è il nuovo attaccante dell'Arezzo, la sua storia è quella di gran parte dei migranti che arriva in Italia con i barconi in cerca di una vita migliore la storia di Bubacar è quella di tanti ragazzi africani che scappano dalla fame e dalla miseria per venire a trovare un futuro migliore in Europa è la storia di tanti migranti che spesso devono fare i conti con una realtà terribile ancora più difficili di quello che la quotidianità presenta loro, ad Arezzo in parte abbiamo conosciuto le traversie di Salim Sissé la punta della Guinea che poi ebbe la sua notorietà in Portogallo giocando addirittura anche in Euroleague Samake Bubacar arriva dal Mali, è arrivato in Libia ha raggiunto il nostro paese in quei barconi che sono i mezzi dei disperati fisico imponente, prima punta classica nella scorsa stagione ha realizzato 19 gol con la maglia del Licata ha anche giocato in promozione in Serie D con il Rocella Ionica, il Sant'Omaso e il Licata le sue prestazioni non sono sfuggite agli osservatori e l'Arezzo ha deciso di scommettere sulle sue qualità Bubacar ha tutto per poter infiammare la curva Minghelli è stato raggiunto l'accordo tra il San Donato Travernelle e l'Aquila Montevarchi la matricola fiorentina, recente vincitrice del Girone E della Serie D giocherà nella prossima stagione in Serie C al Brilliperi di Montevarchi lo stadio Rosso Lurdo dopo la recente ristrutturazione è in grado di garantire quel minimo che serve ad una società di terza serie per giocare a livello professionistico il parere favorevole è arrivato anche dal prefetto De Luca e dal questore Di Lorenzo firmato il passaggio delle consegne, il vertice del latiferno calcio che cambia anche nome con la maggioranza delle quote che passa il gruppo di Piero Mancini il timbro dal notaio è arrivato latiferno l'erchi si trasforma in AC Città di Castello e cambia gruppo dirigente la società bianco-rossa passa nelle mani del gruppo che vede al vertice Piero Mancini gli altri soci sono Paolo Cangi stretto collaboratore dello stesso Mancini l'industriale gualdese Sensi la moglie è l'unico del vecchio gruppo dirigente legato a latiferno l'erchi ovvero Amadori lunedì prevista la conferenza stampa di presentazione che sarà fatta dopo l'assemblea dei soci Piero Mancini assumerà la carica di presidente del suo delizio Tifernate e torna nel calcio con un ruolo da protagonista dopo 12 anni quando a sorpresa decise di chiudere la sua parentesi decennale con l'Arezzo in attesa della nomina del nuovo allenatore Antonio Alessandria il favorito si aspetta la lista dei giocatori a città di Castello danno come probabile il ritorno di Calderini dopo la mancata conferma dell'Arezzo e dilettanti dell'eccellenza novità ad Andiari c'è il nuovo allenatore che rileverà la panchina di Mario Palazzi Renato Borgo è il nuovo allenatore della Baldaccio Bruni di Andiari alla fine Alessandro Bruni ha rotto gli indugi ha scelto il tecnico che rileverà Mario Palazzi sulla panchina della società della Valtiberina Toscana che milita in eccellenza Borgo nelle ultime otto stagioni è stato a Montone dove ha guidato la squadra dalla prima categoria alla promozione disputando sempre campionati da protagonista Sergente Di Ferro Borgo ha la grande occasione di cimentarsi nei campionati toscani dopo aver fatto molto bene dunque in Umbria Bruni in un certo senso vuole ripetere lo stesso discorso che due anni fa attivò con Barontini e che il Covid gli impedì di realizzare Barontini tra l'altro in questa stagione ha fatto molto bene nella San Pierana in Romagna nei prossimi giorni ci sarà la presentazione ufficiale 51 anni Borgo ha anche due figli calciatori e non è detto che uno di questi non lo possa seguire proprio ad Andiari per il mercato il direttore sportivo sta cercando le conferme dei giocatori base le prime indicazioni danno Bruschi e Torseoni sempre in sella alla Baldaccio Bruni mentre per Ceppodomo classe 2003 c'è l'interesse di Terranova Traiana e San Giovannese è tutto per lo sport per lo sport ci vediamo domani Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti